L'unità operativa di oculistica dell'ospedale San Carlo di Nensì si occupa sia di patologie diagnostiche che di patologie chirurgiche. La maggior parte delle patologie chirurgiche sono quelle collegate con la chirurgia ambulatoriale, cioè la chirurgia della cataratta e la chirurgia delle intravetriali, cioè la cura delle maculopatie. Esistono poi delle patologie che curiamo e trattiamo in regime di hospital chirurgico, che sono le patologie di impatto più importante per l'occhio, ovvero il glaucoma, ovvero il distacco di retina, ovvero le patologie che interessano alle occlusioni delle vie lacrimali. Ci interessiamo anche di curare con la chirurgia dello strabismo tutte le patologie dei bambini in cui esista un'alterazione degli assi oculari. Servizio di chirurgia ambulatoriale di oculistica è un servizio che nasce con l'idea di offrire ai pazienti che hanno problemi oculari una capacità di essere curati in modo adeguato, ma senza avere tutti gli impatti che si hanno quando ci si pone in un ricovero. Una chirurgia che si sposa molto bene con l'oculistica per il fatto proprio che tutti gli interventi che si fanno agli occhi possono essere eseguiti, se di breve durata, in anestesia locale o addirittura in anestesia topica solo con le gocce. Il servizio di chirurgia ambulatoriale ha dei vantaggi per il paziente che sono fondamentalmente quelli di fare una procedura con velocità ma con accuratezza al tempo stesso. Che vuol dire? Significa che il paziente rimane in ospedale il tempo utile per fare la procedura chirurgica e per essere controllato immediatamente dopo per poter andare a casa il più presto possibile. Le patologie oculari che consentono di essere eseguite in chirurgia ambulatoriale sono fondamentalmente due. La principale è la chirurgia della cataratta che come sappiamo si produce e si fa in anestesia atopica, cioè nella maggior parte dei casi, cioè mettendo solo le gocce dentro l'occhio come anestetico. E la seconda per numero di impatto nelle nostre sale operatorie è la chirurgia delle maculopatie, cioè la cura delle maculopatie che si produce attraverso l'iniezione di sostanze speciali all'interno dell'occhio capace di bloccare la maculopatia. Noi vogliamo però dire che la nostra chirurgia ambulatoriale è una chirurgia in cui c'è la presenza dell'anestesista che noi riteniamo fondamentale per poter eseguire una chirurgia ambulatoriale sicura ed efficace. La chirurgia della cataratta consiste nel rimuovere dall'occhio il cristallino naturale opacato e nel sostituirlo con un cristallino artificiale trasparente da inserire al suo posto. La chirurgia ambulatoriale delle maculopatie consiste nell'iniezione di sostanze terapeutiche speciali che vengono iniettate all'interno dell'occhio e che sono in grado di bloccare la progressione della maculopatia e in alcuni casi addirittura di poterle bloccare. Grazie. Grazie. Grazie.